allora aspetta facciamo un patto io e te tu non dire a tuo mare che ti sta sentando con me ti posso far vedere cosa come sei però in quanto è un attimo no che ti fa la bipetta però ma no giura giuro giura che la bipetta vai no no ti faccio vedere la cappetta che tu l'abbai vista il video tua ok va vai vai tanto il video fa fusa la bipetta io devi dire a tua madre e te sapete il basi mi raccomando te che zona sei tiburtina adesso a pietrata a zona mio si l'abbiglietta si l'abbiccosa capito mi raccomando fiedi casa a tua madre però l'ultima bipetta stai fatta grazie al basiliano mi raccomando va bene va bene